Fabio Flamini, finalmente è l'ora dell'esordio, domenica contro l'Union Rugby Tirrino di Piombino, conosci questo avversario? Sì, abbiamo studiato questo avversario, sarà una bella partita, poi è la prima, quindi ci teniamo particolarmente a fare bella figura, giochiamo in casa e quindi sarà un bel inizio. Ci sono alcune voci che dicono che questa squadra ha un po' la coperta corta, secondo te è vero? Ma direi di no, poi siamo all'inizio quindi ancora è presto, però sulla carta no, è una bella squadra, competitiva, una squadra completa, adesso sta a noi di mostrarlo sul campo. Tu sei nuovo arrivato, ci racconti un po' di te per farti conoscere dagli appassionati della pallovale? Allora, io sono dell'Aquila, ho giocato all'Aquila Rugby, poi sono andato alla Lazio, ho giocato a Udine, alle Fiamme Oro e l'anno scorso alla Capitolina e quest'anno qui a Civitavecchia. Invece per quanto riguarda il ruolo, cosa fai di solito in mezzo al campo? Sono seconda linea. Quali sono le tue peculiarità, le cose che ti riescono meglio? Ma diciamo mischiettouche, comunque con l'altezza e il peso. Beh, lo vediamo quello. Lo vedremo, poi vediamo in campo. Cosa ti aspetti da questo campionato? È possibile la salvezza? Ma certo che è possibile, sarà un campionato duro, sarà un bel campionato, daremo il massimo e piano piano vedremo volta dopo volta. Grazie.